numero 4 questo apple ipad 2022 offre 64 gigabit disponibile in diversi colori ha un incredibile display da circa 11 pollici con antiriflesso ottima fotocamera posteriore da 12 mp dotata di grand'angolo e di inquadratura automatica dispone di touch id per l'autenticazione sicura e di apple pay il tablet è compatibile con apple pencil e magic keyboard folio massima versatilità dotato di wifi 6 ultra veloce trovi il link di questo prodotto in basso nella descrizione numero 3 l'apple ipad 2022 offre 256 gigabit disponibile in diversi colori ha un incredibile display da circa 11 pollici con il suo chip a 14 bionic e una fotocamera posteriore da 12 mp dotata di grand'angolo e di inquadratura automatica è un ottimo articolo dispone di touch id per l'autenticazione sicura e di apple pay il wifi 6 è ultra veloce la batteria ha una lunga durata nella confezione è compreso il connettore usb per ricarica e accessori il tablet è compatibile con apple pencil e magic keyboard folio massima versatilità trovi il link con il prezzo di questo prodotto in basso nella descrizione del video numero 2 il tablet apple ipad air 2022 dispone di 64 gigabit ottimo rapporto qualità prezzo disponibile in cinque magnifici colori display liquid retina da 10.9 pollici con true tone ampia gamma cromatica p3 e rivestimento antiriflesso chip apple m1 con neural engine dotato di ottima fotocamera frontale da 12 mp con ultra grand'angolo e inquadratura automatica questo tablet dispone di chip apple m1 con neural engine e altoparlanti stereo in orizzontale inoltre è fornito di touch id per l'autenticazione sicura e apple pay acquista questo prodotto con il link che trovi in descrizione numero 1 questo apple ipad air 2022 dispone di 256 gigabit per un'ampia archiviazione disponibile nei colori blu viola rosa galassia e grigio siderale il display liquid retina da circa 11 pollici con true tone rende ogni immagine incredibilmente scenografica il chip apple m1 con neural engine raggiunge livelli performance mai visti e offre un giorno intero di batteria la fotocamera frontale da 12 mp con ultra grand'angolo e l'inquadratura automatica permettono videochiamate più naturali semplice da usare lo schermo è antiriflesso ottimo articolo in descrizione trovi il link di questo prodotto dobbiamo paghoro dovui